Emanuele Petrucci è stato riconfermato come sindaco a Monbaroccio con il 72% di affluenza alle urne, un dato molteplice ci dice il primo cittadino, sia per quanto riguarda la coesione territoriale, sia per il fatto che laddove esistono gli enti locali, anche se piccoli, la partecipazione è maggiore in quanto i cittadini trovano l'amministrazione più vicina a loro stessi. Petrucci aggiunge che un ulteriore conferma dipende da quanto fatto nel 2016 con il referendum che ha detto no all'accorpamento con Pesaro. Chi saranno vicesindaco, assessori e consiglieri? Ieri sera ci siamo visti con il gruppo, abbiamo deciso congiuntamente di fare un percorso, un percorso che vedrà anche un turnover nel percorso della giunta, naturalmente del sindaco e del vicesindaco, che attualmente sono confermati per quello che era il percorso pregresso. Cioè sarà vicesindaco Marco Spinaci, l'attuale vicesindaco, confermato dal percorso uscente, così come sarà confermato l'assessore al socio sanitario, che sarà Franca Rossi, che dalla giunta precedente era stato nominato come assessore esterno, in quanto era entrato in corso durante il periodo amministrativo. Poi c'è il percorso dei consiglieri, gente a parte il dottor Levantini, revisore commercialista che avrà il bilancio, quindi una conferma del percorso pregresso. Abbiamo tante nuove novità, tante persone con grandi professionalità che avranno tutte una specificità. Se comincio a pensare al mio gruppo, penso a Paola Grigioni, attuale presidente dell'Avis, che seguirà il decoro urbano, penso all'architetto Alessandra Gentili, che seguirà tutto quello che è il recupero delle aree in degrado, quindi tramite l'architettura fare un percorso di recupero delle aree in degrado, più ingegnere Forlani, che seguirà tutto il cronoprogramma degli interventi in cantiere, più tutto il discorso fognario, il collettamento che già con Fanno abbiamo iniziato sul fiume Arzilla e quindi aree del Chiaio e Villabetti, più quello di Montegiano. Abbiamo la figura di Ilaria Renzoni, che seguirà la pubblicità, la comunicazione, il turismo e gli eventi. Avremo Yana Tuarek, che è una figura che è nuova, una novità assoluta, che seguirà l'immigrazione e l'inclusivione sociale, quindi un rapporto stretto con i servizi sociali. Nonché due assessori, l'elemento che farà da collettamento a tutti questi sarà il capogruppo, Michela Avvocato Maria Marsili, che dovrà fare la coesione con la giunta e il gruppo consigliare. Correndo in solitaria non ci sarà un'opposizione, quindi lei ha preso una decisione, che in consiglio comunale le decisioni saranno prese tutte insieme ai cittadini. Esatto, noi abbiamo attuato nel corso dei 5 anni in progresso dei consigli comunali itineranti, per coinvolgere la cittadinanza, perché comunque i consigli comunali sono sempre poveri di figure che vengono ad assistere, invece ci siamo accorti che andando nel territorio c'è partecipazione. Quella partecipazione che sarà punto di forza, come abbiamo appena detto, per essere confronto con la cittadinanza, per essere la nostra minoranza. Lavori già avviati? Lavori già avviati, ero poc'anzi di là con gli uffici tecnici per quello che riguarda il cantiere delle mura, quindi il recupero delle mura del centro storico, la palestra comunale, la scuola d'infanzia, l'asilo nido con la piazza di Villa Grande, stiamo confrontandoci con la regione, devo chiamare l'aste per il discorso dell'ospedale di comunità e tutti i cantieri... Scusi se la interrompo, ma questo è molto interessante. Questo è un lavoro, è un progetto che abbiamo portato avanti con l'assessore Franca Rossi, è un lavoro che abbiamo iniziato circa un anno fa, un progetto che è iniziato con l'ambito territoriale e sociale, con i medici di condotta, con il farmacista, con il PNRR che prevede risorse per questa figura. È una figura che a livello sanitario andrà a fare assistenza domiciliare al supporto dei medici di condotta, l'infermiera di famiglia o di comunità è una figura che andrà a coprire un bacino di 3.000 persone. Monbaroccio, 2.100 persone, ha fatto una proposta all'ambito sanitario territoriale dicendo Monbaroccio è pronta a fronte di un confronto territoriale con i nostri medici, con il nostro farmacista per creare una prospettiva sull'infermiera di comunità. Aggreghiamo una realtà dell'ambito territoriale, Santa Maria della Razzilla piuttosto che Montecicardo che sono quelli più limitrofi, e mettiamo a disposizione questa figura per il territorio. Qual è il vantaggio di questa figura? Duplice. La prima è che permette un'assistenza maggiore ai medici di condotta per far sì che si possa entrare dentro le famiglie, dentro le case per fare assistenza domiciliare, chiesta dal PNRR. La seconda è che quel percorso può permettere, riteniamo che sia veramente importante, ridurre anche i flussi nel pronto soccorso, perché nel momento in cui riusciamo a creare un'assistenza domiciliare il paziente e l'utente sarà meno indotto a ricorrere al pronto soccorso per quelle che sono le necessità.